Siamo in piazza del comune a Mondolfo, qui con noi il sindaco Dima a Mondolfo Nicola Barbieri per la presentazione del tesoro di Mondolfo La Cacciata, un'edizione particolare perché quest'anno l'associazione Proloco Tre Colli ha voluto dare una sua caratterizzazione a questa manifestazione che si organizza da tantissimi anni, ci sarà questa caccia al tesoro che sarà di divertimento da un lato ma anche di conoscenza, un motivo e un'opportunità per conoscere il territorio dal punto di vista storico e culturale. Come amministrazione comunale naturalmente ringraziamo l'associazione per l'impegno che svolge ogni anno per organizzare tante iniziative su tutto il territorio comunale ma soprattutto in particolar modo per il primo settembre che ci sarà questa giornata rinascimentale a cui teniamo tanto. Sappiamo quanto non sia facile per le associazioni organizzare eventi e quindi entusiasmare i volontari però la Proloco Tre Colli in questo caso riesce sempre in questo intento e quindi proprio per questo e per l'importanza dell'evento abbiamo deciso di sostenere l'associazione e quindi l'evento e l'iniziativa. Ringraziamo il sindaco potremmo definirlo un evento ludico culturale quindi un evento particolare. Grazie ancora signor sindaco. Grazie a voi. Sempre piazza del comune a Mondolfo per la presentazione di questo evento il tesoro di Mondolfo la cacciata abbiamo già chiesto al sindaco è una cacciata un'edizione della cacciata particolare. Quella del primo settembre dalle 15 e 30 in poi è una cacciata particolare tra l'altro in movimento come sono le ultime edizioni che abbiamo fatto noi l'anno scorso addirittura avevamo organizzato un museo una mostra presso il museo. La cacciata si evolve come ci evolviamo tutti come ognuno ha bisogno di cambiare e di trovare anche nuove motivazioni quindi la rassegna di quest'anno è un'edizione particolarmente interattiva che vede come protagonisti le persone il pubblico che verrà che non sarà semplicemente pubblico ma sarà appunto protagonista interagirà con i posti con le persone e la caccia al tesoro che è la vera novità di quest'anno che sarà una caccia al tesoro organizzata da una primaria società italiana quindi non è la caccia al tesoro improvvisata che magari qualcuno si aspetta sarà un modo veramente moderno e al passo coi tempi per visitare un borgo storico come il nostro e scoprire delle particolarità e trasformarle in un gioco in un divertimento. Quindi il divertimento che ha come fine la valorizzazione e la conoscenza del territorio. Sì esattamente quindi attraverso il divertimento le persone ovviamente che si iscriveranno perché va detto che bisogna iscrivere una squadra da 4 a 8 persone possibilmente in anticipo ma sarà possibile farlo anche fino al giorno stesso e queste persone si troveranno a interagire oltre che con i luoghi anche con le persone perché Mondolfo la prima cerchia muraria sarà piena di personaggi e di situazioni della vita rinascimentale le persone che parteciperanno si troveranno a dover dialogare a dover chiedere a doversi misurare con loro e quindi sarà un modo molto divertente e dinamico per conoscere diciamo stamparsi dei ricordi indelebili direi. Ringraziamo Massimo Papolini portavoce della Proloco Tre Colli organizzatrice insieme ad altre associazioni del territorio di questo evento. Grazie ancora Massimo. Grazie mille a voi. Un appello particolare ai castelvecchiesi non mancate come mai mancate ai nostri eventi ne vale la pena e ci vediamo il primo settembre. Ciao a tutti.